E' arrivata la Befana all'ospedale del Ponte. Per essere sempre accanto ai bambini ricoverati all'ospedale del Ponte, in collaborazione con il Ponte del Sorriso. A fare gli onori di casa, oltre alla Presidente dell'Associazione Il Ponte del Sorriso, Emanuela Crivellaro, anche i Vigili del Fuoco, l'Associazione Nazionale, il Prof Massimo Agosti, che ha letto un toccante e sentito messaggio del Direttore Generale Giuseppe Micale. Grazie di cuore a tutti, un sorriso dai bambini dell'ospedale del Ponte.